Buonasera amici interisti e non è arrivato il pareggio, è arrivato perché giustamente non puoi tirare troppo la corda, tira 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 tira, poi giustamente è normale che la corda si spezzi e non è che io nei passati commenti mi lamentavo, detta vostra mi lamentavo così per creare Dizzanio, no, Meschio non è un burbero da questo punto di vista assolutamente no, perché forse, ma forse l'Inter non soddisfava quelle che erano le mie pretese quelle di vedere un gioco più corale, un gioco leggermente magari veloce ma giusto leggermente per far sì che poi le squadre le vai ad impensierire un po', nemmeno per il cappero, nemmeno per il cappero, un'altra partita da quattro, da quattro e mezzo in pagella, male, male, manovra lenta, 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 poi è bastata una squadra con delle qualità leggermente maggiori rispetto a spalle e crotone per non portare a casi tre punti perché questa è una squadra, oltre ad essere ben organizzata è anche una squadra con un tasso tecnico leggermente più alto e non vinci, e non vinci un primo tempo imbarazzante, imbarazzante dove vuoi andare così? Dove vuoi andare? L'avevo detto, l'avevo detto che tutte le squadre di media, bassa, aggressivica, giocano così, giocheranno così e sarà così, sarà così anche nelle prossime partite, per cui, per cui o cambiamo qualcosa oppure, oppure non le vinci, non puoi vincerle tutte risicatamente le partite, sì, contava solo la vittoria, contava solo la vittoria, contava solo la vittoria, poi tira 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 la corda, si spezza, tira tira la corda, si spezza, quindi non le riuscirai mai a vincere tutte le partite giocando male, qualcuno sì e quelle le devi vincere se riesci, ma poi non puoi pretendere di portare a casa sempre i tre punti senza creare poco o niente, senza creare nemmeno due occasioni da gol. In molti adesso sicuramente diranno, ma se avesse segnato Giovo Mari all'inizio, se non l'avesse già battato, l'avesse addirittura risciata, se avremmo potuto vincere, avremmo vinto? E io rispondo che con i se e con i mano non andiamo da nessuna parte, perché se i tre pali colpiti dalla Roma vanno dentro, prendi tre pere, se la spalla è leggermente più cinica, non vinci, se il Crotone, se Andanovic contro il Crotone non fa il miracolo, tu vai a casa, perdi la partita. Con i se e con i ma non andiamo da nessuna parte e c'è una sola certezza d'oggi, è la certezza che abbiamo una squadra lenta, una manovra lenta, dei ritmi lenti. C'è poco da fare, un'altra partita mediocre. Perché poi se non c'è Perisic che ti fa la giocata, Perisic non si è visto proprio stasera, se poi non c'è lui che ti fa la giocata, se poi non c'è Icardi che l'unica palla che tocca te la mette dentro, non vinci, non vinci, non vinci, è così. Purtroppo è così. Parlavamo di Gio Mario, l'altra volta ho letto un commento, ne leggo uno anche questa volta ed è quello di Leonardo De Matteis, mi dispiace dirlo ma Gio Mario è inguardabile, non può fare il numero 10. Questo è il commento per quanto riguarda la partita scorsa. Non ha i piedi, vedrei quasi meglio Jovic in quella posizione. In effetti ci sta provando in tutti i modi Spalletti a lanciarlo lì, ma a mio avviso non è il suo ruolo, perché sennò non può fare così male. E non è un giocatore mediocre, Gio Mario. Secondo me, Gio Mario, è un giocatore della... non so, non so veramente che parole, con quali parole etichettarlo, ma non è un giocatore mediocre. Eppure fa delle prestazioni indecenti, indecenti, alternata a qualche buona prestazione, perché no? Ma ci vuole costanza e lì dove gioca lui ci vuole inventiva, è un'inventiva che onestamente non vedo e la squadra fatica. Salverei questa sera forse Candreva, Candreva che forse finalmente riesce a saltare qualche volta all'uomo, che invece di sbagliare 350 cross, ne sbaglia 349 e guadagna leggermente più, come posso dire. Di poco, ma già vedo un netto miglioramento da parte sua, da parte sua. Però... però... male. Male, male, male. Non lo so. Non lo so se deve cambiare modulo, non lo so. Ma poi sta sempre nell'interpretazione dei giocatori. Analizzavo un po' il centrocampo dell'Inter, un centrocampo che, ahimè, qualitativamente forse non è neanche granché. Gagliardini? Gagliardini non è un giocatore che sa impostare, che ti sa dare inventiva. Non è un giocatore che... che magari quando sei in sofferenza può trovarti, un po' può lanciare la palla e trovare l'uomo. No, no, no. Vecino? Vecino poca roba. Anche Vecino tanta quantità, assolutamente sì. Sì, non lo nego, ma non è un giocatore che ti può dare inventiva. Assolutamente no. Sio Mario, lo stesso Sio Mario, che per caratteristiche non è appunto un Jovetic, come diceva De Matteis. Lo stesso Jovetic sarà quello che sarà, ma aveva più inventiva. Aveva più inventiva. A noi ci manano. Io vorrei, vorrei, vorrei che ci fosse in questa squadra un certo Banega. Un certo Banega. A mio avviso, un certo Banega dialogherebbe magnificamente con Borga Valero. Assolutamente. Lo stesso Borga Valero giustamente non riesce a velocizzare la manovra. Saranno i movimenti lenti, non lo so. Icardi stasera l'ho anche visto qualche volta in più venire incontro alla palla, finalmente fare un po' di densità centrocampo. Ma leggermente, 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 poi Brozovic, vabbè, Brozovic, Brozovic, entra, non lasciamo stare. Naga, Tomo. Questa squadra deve migliorare, deve migliorare nel gioco. Se no, alla fine non vai da nessuna parte, non lo so, non lo so. Io non mi lamentavo così tanto per, ma presagivo, presagivo questi risultati. Questo risultato, se l'Inter continua così, non può, non può migliorare. Perché qua sono tre partite, una peggio dell'altra. E contro la SPAL la sosta delle nazionali, contro il Crotone il campo indecente e i gradi, la differenza di gradi tra Milano e Crotone. Stasera sarà, come avevo detto nel video scorso, sarà il turno infrasettimanale. Settimana prossima sarà per qualche altro motivo, ma i ritmi rimarranno quelli che sono. E il gioco, la manovra rimarrà lo stesso. Boh, non lo so. Se siete contenti voi, siamo contenti tutti. Speriamo bene per la prossima. Amala lo stesso, amala sempre e comunque, perché comunque, ripeto comunque, siamo in testa. Sono contento, siamo contenti tutti per questo. Ma se vogliamo rimanerci, o se vogliamo ambire alle parti alti della classifica, dobbiamo far meglio. Dobbiamo far meglio. Un abbraccio, un abbraccio da Neschi.